www.feyyaz.tv Per me è tutto ciò che il mio paese mi ha dato. Sicuramente l'Italia è la madre del Poupé Gran Turismo. Piacere di viaggiare, il piacere della bellezza, il piacere di coniugare la vita con l'avere un bello oggetto, questo è nato in Italia, è del Gran Turismo. L'Audi A5, ho cercato di coniugare una buona architettura, una vettura equilibrata, una vettura sportiva, performante, di alta qualità, con l'eleganza. Ma se entriamo nei dettagli di design di questo nuovo coupé, riconosciamo nel volume del tetto, nelle linee di fiancata, nel frontale, soprattutto gli elementi caratteristici delle nostre Audi. Le riconosciamo al 100%. Però nel trattamento delle superfici, nel trattamento delle linee, nella cura del dosaggio, delle proporzioni, ci ritroviamo forse in un altro mondo. Un mondo più emozionale, fatto più di sensazioni. Quindi questo mix ha dato origine a dei dettagli molto molto speciali. Quando il modello era praticamente finito, eravamo al design free, ma io chiesi ancora un po' di tempo, perché sentivo che quel modello poteva diventare da bello a bellissimo. E questo tempo mi è stato dato e oggi sono molto contento. Io sono vissuto in città straordinarie, come Milano, dove ho visto crescere e svilupparsi tanta creatività, tante idee, dalla moda al design all'architettura. Sono convinto che l'Audi A5 Coupé è la vettura più bella che ho disegnato nella mia carriera.